ciao a tutti ed eccomi con una nuova ricetta oggi prepareremo insieme la focaccia utilizzando il preparato per pinza dell'azienda gluten free expert questo preparato come possiamo vedere dalla confezione fa parte delle sezioni di fabio ed è un prodotto senza glutine e senza lattosio e quindi adatto anche alle persone che ne sono intolleranti vi posso garantire che la focaccia realizzata con questo preparato ha un gusto davvero buonissimo e anche la consistenza è fantastica infatti rimane croccante sulla base e sulla superficie mentre al centro è bella soffice la realizzazione di questa ricetta è davvero semplicissima infatti oltre al preparato che è nella confezione da un chilo bisogna solamente aggiungere l'acqua il sale l'olio e il lievito io ho utilizzato sempre il lievito dell'azienda gluten free expert che è questo qua lievito di birra e vi lascio di seguito la lista degli ingredienti e il procedimento buona visione un chilo di preparato di farina per pinza le selezioni di fabio dell'azienda gluten free expert 13 grammi di lievito di birra 40 ml di olio extravergine di oliva un litro di acqua 20 grammi di sale 5 grammi di zucchero per prima cosa versare il preparato per pinza in una ciotola bella capiente aggiungere il lievito lo zucchero e mescolare per bene dopo di che aggiungere l'acqua l'olio extravergine di oliva e il sale e lasciare riposare l'impasto per circa due ore coperto da un canovaccio a questo punto nella teglia con la carta da forno versare un giro di olio extravergine d'oliva e stendere l'impasto con le mani per facilitare la stesura dell'impasto potete ungervi le mani con dell'olio aggiungere l'aglio, il rosmarino, il sale grosso e l'olio extravergine di oliva infornare nel forno preriscaldato a 180 gradi e lasciar cuocere fino a che non assume un bel colore dorato e a questo punto la nostra focaccia realizzata con il preparato per pinza delle selezioni di Fabio dell'azienda Gluten Free Expert è pronta per essere gustata